Ehm... non credo di aver capito bene Casa D Le coordinate portano qui Sono entrato nella città e il mio referente mi ha retto di venire a queste coordinate Perché gli ho chiesto se mi venisse assegnata una casa o cosa Ragazzi, penso che mi abbiano appena regalato una casa Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video Oddio, non devo farmi vedere mentre faccio l'intro Sennò potrebbero farsi delle domande Sono entrato in una città, yeee È stato fichissimo, mi hanno portato fino qui, mi hanno fatto fare il tour E adesso sono un cittadino della città Non so per quanto perché vorrebbero contattarmi su Telegram Per giustamente poter comunicare tra di noi Ma non lo posso fare Quindi ho paura che mi butteranno fuori Ma intanto mi hanno dato questa casa Cioè io sono nuovo, sono venuto qui Mi hanno regalato una casa intera Questa è casa mia Allora, facciamo un attimo un giro della casa per vedere com'è fatta Perché sembra davvero fica Intanto... What? Tu! Ma in che senso? Cioè qui c'è un cimitero e questa è la mia tomba? Questo è molto creepy È un sacco creepy È tipo una trappola Ma si può uscire? No ragazzi Allora Supportate intanto con un like la serie E lasciate like se volete che io mi tuffi qui dentro Per scoprire cosa c'è lì dentro Anche se l'idea di andare in una tomba mi turbo un po' La casa da fuori si presenta molto bene È davvero massiccia Sembra già tutta decorata Guardate quanto è grande C'è tutto questo spazio per un nuovo player Mi sento a dir poco viziato Questa casettina laterale Credo che non faccia parte della mia proprietà Non vedo l'ora di entrare Ma prima di entrare mi tolgo lo spizio Perché ragazzi diciamoci la verità Se avete lasciato un like E avete sostenuto questa serie Io vi ringrazio Ma la serie è interamente pre-registrata Quindi non posso ancora sapere quanto supporto avrà E pertanto io ci voglio entrare Anche perché forse le coordinate Mi portavano vicino a questa zona Quindi andiamo Bene Ora sono rinchiuso in una tomba E non so come uscirne Forse non è stato un grande piano Però credo di poter fare qualcosa lì Cioè perlomeno dovrei riuscire a passare Vabbè mi spiace ma togliamo un attimo qui Riapriamo Scendiamo e Wow Wow Questa è una casa? Ma potrebbe essere l'ingresso della casa di qualcuno? Oddio se mi scoprono qua dentro Penseranno che sono un ladro Io volevo solo curiosare Credo proprio di sì ragazzi Non lo so C'erano degli oggetti lì Quindi tomba di Jenny No ragazzi Usciamo Usciamo subito Non mi faccio vedere Cerco di uscire Credo da qui È chiuso Come faccio a uscire? Ma come faccio? Sono intrappolato in un cimitero Tomba di Jenny Oddio Mi scusi tantissimo Ok questa è l'uscita apparentemente Mai avrei pensato Di fare una cosa del genere Appena entrato in una città Questo server è pieno di sorprese Anche per me che ne sono l'admin Figuratevi per voi E a tal proposito Se volete entrare anche voi In questo bellissimo server Fare questa esperienza Entrare in una città E magari vedervi Regalare una casa E ragazzi vi assicuro Che lo hanno fatto Senza nessun tornaconto Solo per avere un nuovo giocatore Un nuovo cittadino In questo momento In cui sto arreccando Loro non sanno che sono È tutto pre-registrato Non hanno la minima idea Di chi io sia Quindi se volete entrare Sappiate che è il server Dei sub del canale Twitch Mi trovate in live Tutte le sere alle 20.30 Link in descrizione Potete fare l'abbonamento E accedere a questo server A quello Pixermone E a tanti altri servizi Anche gratis Se fate la sub con Prime Gaming Casa D Sono pronto Questa è casa mia ragazzi Questa è casa mia È tutta diroccata E non potrò Ristrutturarla in teoria Perché Beh Lo stile della città È questo Ci sono delle cose Nella chest Nelle chest Quindi non sono convinto Di poterle toccare Devo vedere Se il mio referente È ancora online Mentre al piano di sopra Wow Lo spazio è molto Però non c'è neanche un letto Quindi come lo set Lo spawn Mi serve assolutamente Della lana Mi hanno chiesto Di scrivere a un giocatore Su Telegram Per farmi accettare Davvero nella città Proverò a scrivergli Qui nel server E a chiedergli Se posso usare Le cose nella chest Ciao Mi hanno assegnato una casa Ma ha degli oggetti Nelle chest Posso tenerli io O non devo toccarli Ciao Aspetta che arrivo Va bene Aspettiamo Il signor Gallo Uno dei sindaci Ci verrà a fare visita Forse ci darà anche lui Il benvenuto Non so Facciamoli trovare Un tè caldo Qualcosa Questa casa è un disastro Devo pulire per terra Non lo vedo arrivare Sono in hype Speriamo che me li lasci Gli oggetti Forse dovevo far finta di niente No Meglio di no Altrimenti sarei sembrato un ladro Ma in ogni caso Mi farebbe comodo un letto E delle cesorie Per avere questo letto Quindi Eccolo Eccolo ragazzi Credo che sia per Eh Dove è andato L'ho visto passare Ma Non è entrato nella casa Quindi Aspetta Andiamo a prenderlo Signor Gallo Signor Gallo Salve sono qui Questa è la casa che mi hanno assegnato Mi dica che non c'è un errore Mi sembrava troppo grande Però Si è fermato là fuori Non so perché Ma inizio a pensare Che forse sia davvero un errore Forse non è questa la casa giusta Inizierò ad uscire Che non si sa mai Facciamo così Nel dubbio non ho toccato niente Puoi controllare Non ho messo mano da nessuna parte Ci sono anche le proprie video Bro Questa è sì la tua casa Ma una volta era di un inattivo Quindi contattalo E vedi cosa dovete fare per gli oggetti Si chiama Master Dofa Va bene grazie Al massimo Gli eli metto da parte A posto Non li userò Però Vabbè La casa è mia Comunque quindi GG Comunque contattami su Telegram A me Che ti spiego La città e ti aggiungo sul gruppo Pesa Come dicevo a Lori Non posso usare Telegram Non è possibile evitare di entrare anche lì Punto di domanda Io ci avevo già pensato questo problema E avrei voluto in qualche modo Crearmi un account fake su Telegram Cose così Ma era troppo complicato Serviva un altro telefono Un casino ragazzi Davvero un casino Purtroppo non si è potuto fare Bro Telegram è essenziale per tutto Mi dispio ma serve per forza Ah puntini puntini Quindi non posso restare Cioè sì Ma proprio non lo puoi usare Telegram Dunque Su questa cosa forse dovrei fare un po' più di luce Le varie mini community Hanno Dei gruppi Telegram di solito Comunque dei punti di ritrovo Anche nel Discord Dove possono comunicare E organizzarsi per i progetti Quindi ha senso che mi chiedano Di far parte del loro gruppo Telegram Non c'è niente di male Anzi Per avere l'IP del server Entri nel gruppo Telegram E lì lo trovi Purtroppo Il mio è un caso particolare Altrimenti Sarai entrato più che volentieri Devo vedere se riesco A restare nella città Anche senza il gruppo Telegram Tutto qui Uh queste cesoie Le potrei comunque prendere in prestito Perché avrei bisogno della lana Per farmi il letto Dopo una bella discussione Forse siamo arrivati ad un punto Non entro nel loro gruppo Telegram Ma dovrò chiedere ogni cosa Riguardo alla città Qui su Minecraft È giusto così Chiaramente cercherò di tenere un basso profilo In modo da non dover Rompere troppo le scatole Mentre si è rimesso a piovere Questo non è il bunker Che poi sta nevicando Ok magari per ora Spargi per la città Un po' di lampioni Con lanterne blu È la priorità Mi hanno dato un compito Va bene Cercherò di aiutare la causa In qualche modo Bene Scendiamo nel bunker Andiamo dalle pecore Mi sono già perso Apparentemente Dove devo andare? Di qua Yes Andiamo dalle pecore E prendiamo giusto Tre pezzettini di lana In modo da potermi fare un letto Tac Oh Già tre pezzetti A posto Perfetto Possiamo già tornare nella casetta Bene Ora torniamo a casa Il fatto è che Non mi ricordo dov'è Hai questa? Forse dovrei illuminarla un po' Casa mia È abbastanza buia Se comunque è questa Perfetto Bene Crafting table Ma un po' di legno Perché? Ah Non mi sono portato niente Dalla caverna Sbatta Eh niente ragazzi Mi sa che Sfrutterò il legno Che ha lasciato il vecchio inquilino Almeno tre pezzettini Giusto per il letto E poi cercherò di arrangiarmi Ecco Tipo questo qui Lo prendiamo Sorvoliamo il fatto Che prendo il legno Dalla ceste Prima che pensino Che sia legittimo Rubacchiare dalle ceste Quindi facciamo fitta di niente Craftiamo il letto Tac E questo Credo di volerlo piazzare Al piano di sopra Da qualche parte Bah Per ora lo mettiamo qui Le spawn settato Anche se non posso dormire Mentre le cesoie Gliele rimettiamo a posto Dove le abbiamo trovate Non mi ricordo dove erano Le mettiamo qui Comunque Siamo a posto così Avendo abbandonato le mie cose Nella ceste Della caverna Mannaggia a me Che non ci ho pensato Minimamente E in questo momento Devo trovarmi un boschetto Con degli alberi Da poter prendere Salve Ah quanti giocatori Che ci sono in giro In questa città Ficco Non so se è lecito Che io mi prenda Questi alberi Che credo comunque Siano stati piantati da loro Per Farmare il legno Suppongo Non voglio sbagliare Bene Arrivati a questo punto Sono uscito dalla città Per raccogliere un po' di legno E volevo prendere un albero Dove ero sicuro Di non dare fastidio Così da non rompere le palle Chiaramente Tolgo tutto il ceppo Aspetto che cada un arboscello Così lo ripianto pure Non voglio impattare sul server Devo rispettare la natura Ed ecco l'arboscello Ottimo Tac Ripiantato Queste foglie Adesso se ne andranno Va bene Manca giusto una E possiamo tornare in città Per tornare in città A questo punto Dovrei poter fare Come l'altra volta Con la base Quindi Dallo spawn Andiamo al portale Dell'end Tac Momento della verità Ed eccoci qui Nella nuova casetta Perfetto Ora Con il legno che ho trovato Devo fare una cosa Molto simbolica Cartello tattico Casa di Eren Levi Stray Sbam Scriviamo anche nello stesso stile Il materiale Oddio Penso che sia la luce A farlo sembrare strano Dovrebbe essere lo stesso Ho una città Ho una casa E ho anche qualcosa da fare Nel prossimo episodio Inizieremo a contribuire seriamente Nella vita Con la città Alla vita sociale Della città Diamo il nostro contributo E siamo dei buoni cittadini Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti